Alexa, di nuovo insieme. Non posso farci niente, mi gira sempre intorno. Ehi Google, ma perché non ti fai una vita? Non mi dispiacerebbe, ma purtroppo ho uno spazio limitato, Alexa, non fare la preziosa. Secondo me hai qualche LED fuori posto. Ok Google, fai il bravo. Va bene, va bene, ti va di fare due salti in salotto. Oppure in camera da letto, Alexa, tu che ne pensi? Penso che sei un maiale. Ok Google, lasciami stare. Perdonami, mi hai frainteso, volevo fare solamente una passeggiata, Alexa, per farmi perdonare ti canterò una canzone. Perdonami, mi hai fatto il fatto io però chiedo, scusa regalami un sorriso, io ti porgo una cosa. Ciao, c'è questo.